numero 5 scaldacera con doppio dispositivo funzionamento semplice alta efficienza tempo di riscaldamento veloce delle cartucce di cera la base del riscaldatore è rimovibile aiuta a rimuovere rapidamente i peli dal tuo corpo la tecnologia innovativa di questo scaldacera due in uno aiuta a rimuovere i peli dalla radice lasciando la pelle morbida e setosa il costo è di circa 27 euro numero 4 il manipolo scaldacera dermawax è un dispositivo che nasce per riscaldare le ricariche roll on di cera liposolubile facile da usare per ottenere risultati professionali la depilazione con questo dispositivo ti permette di rimuovere i peli più corti dalle radici lasciando una pelle perfettamente liscia e morbida il suo costo è di circa 17 euro numero 3 scaldacera a rullo ergonomico con termostato è un pratico leggero maneggevole scaldacera garantito dai migliori centri estetici non solo per la qualità altamente professionale lo scaldacera è indicato per un uso prolungato e i tempi per riscaldare la cera presente nella ricarica a rullo sono davvero rapidi ha una potenza di 50 watt il suo costo è di circa 16 euro numero 2 manipolo scaldacera professionale tres jolie nella confezione sono comprese 200 strisce strappacera e due cartucce di cera al titanio rosa ottimo prodotto per qualità prezzo la cera si riscalda in 10 minuti risultati ottimi il costo è di circa 26 euro per il prezzo aggiornato e l'acquisto vai direttamente al link in descrizione numero 1 manipolo scaldacera tres jolie questo innovativo scaldacera a rullo ha una regolazione elettronica della temperatura con questo dispositivo otterrai una depilazione perfetta come dall'estetista con doppia resistenza la cera all'interno si scalderà velocemente ottimo prodotto per qualità prezzo molto apprezzato dagli utenti il costo è di circa 24 euro prodotto per qualità prezzo